ciao a tutti ben ritrovati allora cosa fate di bello in questo caldo ed intenso giovedì ma ci guardiamo tutti insieme un video di chiara ed era un bel po di tempo che non si andava a commentare un mukbang che poi è uno di quei contenuti che va a rappresentare uno dei capisaldi del palinsesto nel canale di chiara ed alessandro il mukbang che andiamo a commentare oggi porta per titolo mega iper abbuffata con lenticchie e cotechino cotechino eating show mukbang italia cotechino e lenticchie ma che già siamo a capodanno avevo iniziato a registrare sto video che era febbraio ma quanto cazzo ci sto a mettere e dio santo allora cerchiamo di tornare seri e accendiamo il riflettore sulla nostra protagonista indiscussa e cioè chiara che per l'occasione ha indossato un abito lungo in saten di un candido color avorio mentre i capelli sono sciolti e fluenti ma di che e invece no perché abbiamo il solito pigiama anzi per l'occasione ne abbiamo indossati due sovrapposti mentre i capelli sono raccolti al solito in stile cipolla quello che ci presenta e prospetta è un mukbang estremo senza né tagli e né censure ecco quindi teniamo pronte nel caso le dovute restrizioni la portata è unica e cioè lenticchie e cotechino ora saranno più le lenticchie o sarà più il cotechino e chi può dirlo ma come chi può dirlo noi e solo dopo aver visto il video ora il video inizia e ad occhi e croce credo che chiara abbia presenziato ad una manifestazione femminista del tipo bruciamo i reggiseni perché perché ad occhi e croce mi sembra che ne sia sprovvista e dichiariamo ufficialmente aperto questo spassosissimo mukbang spassosissimo oggi ha dei problemi con la s va bene davide è sul balcone che parla al telefono con denis saranno ancora discutendo del fatto che quando hanno montato il tiragraffi delle gatte e le gatte ci sono saltate su si è ribaltato il tutto ma affari loro la cosa importante è che le gattine non si sono fatte nulla di male ora primo rammarico del di inizio mukbang è il fatto di non aver aggiunto del sedano che comunque avrebbe dato sicuramente più carattere a questo esotico piatto ora non avremmo messo il sedano però abbiamo messo alloro carote cipolle un filo d'olio dell'acqua un po di passata e tanto amore nel frattempo tra un boccone e l'altro troviamo anche il tempo di fare un po di spoiler lei dice se avete già visto il video di davide ora io non ho capito a quale video si riferisce sicuramente già sapete che lei era alla ricerca di una cosa online ai teniamo pronte le restrizioni e continua dicendo che questa cosa poi alla fine sono riusciti a trovarla e l'hanno pure messa già nel carrello sul sito di amazon quindi questo oggetto misterioso è stato già caricato nel carrello ma non ancora acquistato perché perché in prospettiva c'è un ulteriore più dettagliata ricerca magari trovano qualcosa di meglio come ragionamento non fa una piega il costo dell'oggetto misterioso invece si aggira intorno ai 70 euro e qui parte il toto scommessa secondo voi che cos'è questo oggetto misterioso momento spoiler continua per un bel po tra un dico non dico smentisco confermo e in sottofondo il rumore del mare ah no è lo scarico del gabinetto che fa cornice a questo meraviglioso mukbang e poi a questo punto del mukbang succede un qualcosa di imprevisto di sconvolgente ad un certo punto la chiara cerca di richiamare l'attenzione di sua madre chiamandola proprio mamma 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 ma nessuna voce di mamma risponde al suo accorato appello ora e che sarà successo e qui parte un piccolo quiz per voi allora in casa sono tre persone chiara davide e la signora luciana chiara è in live che sta facendo il mukbang non in live sa fa il video del mukbang davide e sul balcone la signora luciana non risponde e si è sentito il rumore dello sciacquone del gabinetto secondo voi cos'è successo ecco ora quella che sarà la vostra opzione di scelta in merito al quiz che vi ho proposto lascerete la vostra risposta sotto mediante commento a questo bellissimo blog che è bellissimo come tutti gli altri e chi dice il contrario è bannato ora nel frattempo che succede tutto questo arriva in cucina finalmente la signora luciana a reclamare la sua porzione di lenticchie e parte tutto un elogio a queste benedette lenticchie che sono digeribili che sono ricche di proteine che sostituiscono una bistecca per le persone che non mangiano carne sono un tocca sana e quanto sono belle queste lenticchie e quanto sono simpatiche queste lenticchie quanto sono buone queste lenticchie tutto queste lenticchie a me mi hanno fatto già due palle queste lenticchie ma il discorso lenticchie continua perché la signora luciana si propone di cucinare in altro modo queste benedette lenticchie magari associandole a un po di pasta tipo pasta e lenticchie era facile questa che dire quasi quasi era meglio il rumore del mare cioè h scarico del gabinetto il mukbang procede il piatto pian piano si svuota e ci aggiungiamo anche un po di pane e beh possiamo dire tranquillamente che in questo mukbang si è abbastanza trattenuta rispetto ai soliti mukbang a cui ci hanno abituato in cui magari l'abbiamo vista mangiare tre quattro panini porzioni di patatine fritte naghi di pollo salsine varie tra cui maionese salsa burger che quelle non sembra ma sono veramente delle bombe ipercaloriche siamo anche arrivati alla fine di questo ennesimo mukbang il piatto è bello vuoto abbiamo spazzolato via tutto e lei saluta allegramente la sua fascia di utenza per quanto mi riguarda i mukbang non sono uno dei contenuti che preferisco del canale di chiara mi piacciono molto di più i try on haul e i vlog a tema ora per esempio sono in fervente attesa dei nuovi video da lei annunciati quelli con le ricette per i dolci di carnevale però devo essere onesta sì sono in fervente attesa ma ho anche un po di timore perché ho seguito l'ultima ricetta sua quella del tirame su alternativo e devo dire che non ha riscosso grande successo poi buono sarà coincidenza ma gli amici a cui avevo fatto provare questa favolosa ricetta della nostra chiara il giorno dopo mi hanno bloccato sia su whatsapp che su facebook che su instagram dappertutto forse solamente problemi di connessione io nel frattempo mi sono munita di un sacco di farina da 25 chili tre panetti di burro da 250 grammi 36 uova di gallina allevata a terra vaniglia cannella frume frumenta no come si chiama non si chiama frumenta si chiama frumena frumina frumena frumina può essere non lo so si vede che non li so fare i dolci qui ci vorrebbe la nostra amica carmela che è bravissima a fare dolci e vedi come tanti settori anche in quello culinario è così c'è chi può e chi non può io ad esempio non può e quindi mi limito a fare i complimenti a chi è davvero bravo a differenza mia ora giusto per concludere il blog vengo a spiegarvi anche la foto che ho scelto come sfondo al blog stesso allora questa è una foto d'epoca di un gruppo di ragazzi afro americani scattata nel quartiere di harlem la moda degli anni 70 è caratterizzata da una ricerca meticolosa per quello che riguardava lo stile ora se io vi chiedessi secondo voi quali sono i punti forti che rappresentavano la moda degli anni 70 tutti mi direbbero i colletti delle camicie con quelle punte esagerate i pantaloni a zampa d'elefante per non parlare poi di quelle pettinature cotonate all'inverosimile ma soprattutto c'era una mentalità diversa c'era più tolleranza siamo nel 2022 a sentir fare certi discorsi sembra che il tempo si sia fermato al 1200 è qualcosa che proprio non va colpa dell'ignoranza colpa di una retratezza mentale cioè non so collocare bene il motivo di tutto ciò ma comunque un problema di base c'è assolutamente ma questo è un discorso lungo e abbastanza ramificato che non mi sembra il caso di affrontare in conclusione di questo blog ora il blog di chiara comunque è finito termina anche il mio a me non resta che augurarvi buona continuazione di giornata e darvi appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto anzi credo che nella giornata di oggi riuscirò a fare anche una brevissima live quindi stay tuned e ciao a tutti da gossip